Se volete acquistare account o crediti food, rivolgetevi a MarketFood, di cui trovate il link qui sotto in descrizione. Vi ricordo inoltre che con il codice coupon FEDEMARCONI, tutto maiuscolo, tutto attaccato, avrete un 5% di sconto. Sì, 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 Lewandowski! Mamma mia, Lewandowski 89, Lewandowski 89, vedete che quando non registro trovo Dio, mamma mia, ho anche la bunda, ok raga, ci vediamo tra poco col tech opening. Ragazzi, buongiorno a tutti, come vi avevo accennato ieri nel flash video, siamo qui con Pastarella, avete visto che abbiamo trovato ieri sera, quindi dobbiamo procedere, dobbiamo proseguire, dobbiamo trovare Ibra Tots. Non sarebbe male, quindi partiamo subito, io partirei dai pacchetti da 25.000, magari alternandoli, ne abbiamo già aperti 10 a screzzo e quindi vi apriamo gli altri 10. La cosa bella, ragazzi, è che hanno messo quelli da 25.000 con i pacchetti normali or, quelli da 15.000 con i pacchetti promo. Che c'ha io! Dai, quindi noi partiamo con un pacchetto argento. No, basta, l'altra volta ha portato sfiga. Eh, vabbè, noi oggi ci ricordiamo perché siamo, ah, hai visto? Lungo! Lungo 69, voglio, eh. Stai finendoci, guarda. Ancora? Sì, perché dobbiamo un po', perché così chi fa capisci, vabbè, lui apre quelli piccoli, così gli mette i Tots in quelli più grandi, vedi, i barzagli, già, come fai a non essere Tots? Perché non ha giocato, l'ho fatto male. Non ho messo tutta la Juve, Tots. E quindi, capito, cioè, se tu apri quelli, comunque, che non valgono molto, loro ti spostano, ti spostano i Tots in quegli altri. Beh, ovviamente, ricordiamo, cazzata a parte, che abbiamo 3 milioni di tredini. Ah, beh, perché andavano visto. Eh no, perché c'è la gente stupida. Vedi, quando tu cominci a trovare i soldi, cosa significa? Che è la capra, eh. Se la capra è il mio animale dopo la donna. Quindi, andiamo avanti. E andiamo! Hai visto? Hai visto? Quando ti dico le cose? E andiamo! Quando ti dico le cose? Subito! Guarda te le dico, quanto vale? È un 86. No, no, però è forte, non mi piace. No, non vale cazzo. Sono un pozzo. Incredibile, dopo 3 pacchetti. TOTOTO! Oh, no, no, no! Contiti! Contiti, scatata! Guarda quanto è bello, guarda quanto è bello! Grandissimo! Che passiamo a quello che ti ha! Tra l'altro è veramente forte. Quindi dai, è vero, è brutto. Ci facciamo l'incredibile Ligan. Ci veniamo già a voi, però. Per il... Per il... Per il... Road to Division 1. 1. 1. Poteva essere... 2 e invece 1. E andiamo! Oddio! 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 Non lo so il... Eh, perché quello mi guarda quanto codo è terzino. Ecco perché chi c'era terzino destro da Ligan? Mamma mia, mi faccio un vitalino. Basta dire stronzate perché siamo Siamo ben a Oh Dio Sinkulu 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 Dai stiamo a 5 Stiamo a 13 minuti Cioè in meno di un quarto d'ora 5 toss Signore abbiamo trovato anche Marco Van Basten Sì tra le vent'anni fa ci stava meglio però Infatti non abbiamo trovato un cazzo Oddio Cristo Sì infatti non abbiamo trovato un cazzo Infatti non abbiamo trovato un cazzo E Raffi abbiamo trovato un mese da per Raffi E andiamo Sì regà Aspetta io so perché 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 Ah certo è normale Mi mancano i giocatori Promo Io a lui la vedo Oh Rugga Go Mi sta non funzionando Ruggani Il peggiore Morata che entrava regà Ditevano nei commenti Dove erano a essere tosse Dove erano noi La romanista No io ventino de merda Oh tu sorella Grande E io l'ho trovato Regà Siamo tornati Siamo tornati Abbiamo un milione rimasto Guardate chi possiamo trovare Visto che è cambiato qualcosa al mondo Hulk Vabbè Quelli classici Depay ragazzi Il nostro Memphis E poi basta Quindi Spero che nel frattempo Ci siano stati anche I pacchetti special Vediamo un po' Perché qui Non c'è più nulla Qui 25 mila 20 pacchetti Apriamo gli anni Arriviamo tutto Arriviamo tutto Ragazzi Ci hai libero da trovare Io Cinque secondi fa Non guardate al viol Allora Abbiamo tornato Tanti Toz Tanti 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 Totti Però adesso noi continuiamo Perché sarebbe brutto Poi non continuare Vero Giusto Mertesaker Adesso vediamo di nuovo Un culo doppione Scommenti Non mi sta a salivare Il momento di vestito Perché so che non troveremo più Niente Stavo dicendo Che non troveremo più niente Stavo dicendo Che non troveremo più niente Grande Grandissimo Stavo dicendo Che non troveremo più nulla Mi parevo Tredd Quando ha trovato Nei mar Ultimo Lo vogliamo veramente fare Non ci abbiamo Alternative Dobbiamo finire il pack opening Regale Pensate Troviamo Nessuno Lampard Ancora Regolarmente All'ultimo pacchetto Ma il ciocio La trova Noier Totti E noi Smalling Vabbè ragazzi Comunque Questo era il pack opening Che finisce qui Forse Se non riesco a vendere Ma tu di Entro poco tempo Apriamo altri pacchetti Altrimenti Vi saluto già ora Quindi vi do Lasciare un like Se questo Pè Tanta gente Comunque Niente Ci vediamo Col prossimo pack opening Bella Al prossimo video Vi stupro Al prossimo video Al prossimo video Al prossimo video